L'Associazione Tutela del Verde Giardino di Roma ha vinto il bando per la gestione delle aree verdi del quartiere. Un bel traguardo che molti aspettavano da tempo, dato che l'avviso risale a luglio 2021. Ora, dopo l'ufficiale passaggio di consegne, i membri sono pronti a mettersi all'opera e sono tante le iniziative che vorrebbero mettere in campo. È una bella responsabilità in un quartiere che si chiama Giardino, insomma, avere la gestione del verde. L'obiettivo principale è quello di far tornare il quartiere ad essere degno di questo nome, Giardino di Roma. Quindi, innanzitutto, la manutenzione che negli ultimi anni non è stata fatta. Abbiamo programmato 11 sfalci, se riusciamo a farli naturalmente, perché per poter ottenere questo tipo di impegno c'è bisogno di un impegno economico che anche il quartiere deve farsi carico. Dovremo comprare delle attrezzature perché abbiamo intenzione di gestire una parte, diciamo, in autonomia con il gruppo dei volontari, quindi dobbiamo acquistare delle attrezzature per rendere i volontari capaci e dare la possibilità di poter fare questi lavori. Di che impegno economico stiamo parlando? Di chi se ne farà carico? Per esempio, il municipio non aiuterà in nulla? L'impegno economico che abbiamo preventivato per un anno di manutenzione del verde è di circa 60.000 euro. Se ne dovrà fare carico il quartiere. Il municipio partecipa, non economicamente, ma partecipa aiutando la gestione, nel senso di venire a ritirare il materiale di risulta dando la possibilità di gestire la raccolta dell'immondizia quando svuoteremo i cestini, questo tipo di supporto. Per questo servizio ogni famiglia dovrà pagare 30 euro all'anno. Puntiamo innanzitutto alla riqualificazione del quartiere, quindi con l'Associazione Tutela del Verde fare di questo quartiere un bellissimo parco dove ci si può stare tranquillamente, dove l'erba è sempre tagliata, pulita quindi riuscire a far sì che tutti scendano anche solo per una semplice passeggiata senza dover fare lo slalom fra l'erba alta, animali più o meno grandi quindi puntiamo a vivere il quartiere tutti, tutti i giorni e nel miglior modo possibile.